Busti, tutori e protesi di arto personalizzati, ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Si indebolisce l'anticiclone, lascerà parzialmente spazio ad una perturbazione atlantica che lambirà la nostra penisola, portando maggiore instabilità anche sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 14 settembre evidenzia un tempo via via più variabile. Cielo da prima poco nuvoloso a seguire probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in moderato calo, minime sui 13-20 gradi, massime tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni piuttosto incerte, con molte nubi e possibili piogge a carattere intermittente con pause localmente più soleggiate. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, con tratti soleggiati e alcuni rovesci a carattere temporalesco. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Entra nel mondo l'olato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.